bene sono passati circa 11 giorni da quando abbiamo cominciato a fare le soppressate in 11 giorni siamo già a questo livello qua vedete l'abbiamo messa a schiacciare si vede che sono belle rosse aderati i protocolli che molti segnalano qua facciamo cose giuste anche le salsicce vedete sono quasi sul punto di essere già messe sotto vuoto ne metteremo un po sotto grasso e un po sotto vuoto come vedete c'è un po di sono un po lucide noi preferiamo aprire un po i pori con l'olio extravergine d'oliva nel senso che quando passano più o meno dieci giorni mettiamo un po di olio extravergine d'oliva atto a fare innanzitutto a fare diventare poco poco più morbidi in modo che l'olio riesce qualche modo ad aprire un pochettino i pori del velo in qualche modo si riesce a fare entrare ancora un pelino la stagionatura La stagionatura Ecco teatro 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 teatro